. Justine e Selena sono tornati insieme, è ufficiale, c'è il bacio. Ritorno di fiamma tra Justine Bieber e Selena Gomez? Il bacio che non lascia spazio allimmaginazione. . Justine Bieber e Selena Gomez sono tra le coppie che più amate e seguite dai giovani di tutto il mondo. La loro storia d'amore aveva fatto sognare i loro fan in tutto il mondo e da allora, quando i due decisero di mettersi ufficialmente insieme, le loro abitazioni furono decisamente invase dai paparazzi. . Tutti, ma proprio tutti, volevano sapere. . Sui giornali e i siti di gossip la notizia impazzava e, in mente non si dica, Justine Bieber e Selena Gomez divennero la coppia del momento. . E' facile dunque capire perché non tutti presero bene la fine della loro relazione quando la coppia decise di interrompere i rapporti. . Oggi però una nuova foto riaccende le speranze dei fan della coppia. L'immagine in questione, anche se sfocata, li trae insieme mentre, senza alcun ombra di dubbio, si scambiano un bacio. . . Justine e Selena, un amore mai finito?. . Ai fedelissimi infatti non è di certo sfuggita la foto che, proprio in queste ore, sta rimbalzando sul web. . Niente di ufficiale ancora stato detto o scritto da Justine Bieber e Selena Gomez al riguardo. . Al momento la coppia non ha confermato nessuna voce ma l'immaginazione dei loro seguaci, si sa, è fervida. . Per molti il legame che avrebbe unito i due in passato era così forse che, prima o poi, avrebbe spinto di nuovo i due cantanti d'oltreoceano a ritornare insieme. . Insomma, era inevitabile, specialmente dopo l'avvicinamento tra i due delle ultime settimane. Ad essere particolarmente contente di questa notizia sono state soprattutto le ragazze che, una volta diffusa la foto dalle pagine fan italiane di Bieber e della Gomez, sono andate letteralmente estasi. . Perché la coppia piace tanto al popolo di internet?. . Il segreto del successo della coppia probabilmente è dovuto in gran parte alla loro storia personale. . Essere entrambi seguiti ed apprezzati da ragazzi e ragazze molto giovani ha sicuramente contribuito alla loro ascesa. . Per vedere però se, quando e come Justin Bieber e Selena Gomez decideranno di ufficializzare la cosa non ci resta che aspettare. . Per adesso i milioni di followers di tutto il mondo si dovranno accontentare solo di una foto rubata. .